Corre tra il Gervino e il Monte Rosa un'altissima via che è come un sentiero inaltato nel cielo sulle creste e sulle vette delle montagne più belle d'Europa e là gli amici e i discepoli chiamarono a rinnovarne ogni anemoria i più ardili e i più forti sciatori del mondo in una competizione che è al tempo stesso una prova della salvezza dei loro muscoli e del loro cuore il cronometro scandisce i secondi 3, 2, 1 Vado! Eccolo finalmente il traguardo, presso Gressonei arrivano prima gli alpini del tenente Vida, poi quelli del capitano Silvestri che nella discesa hanno battuto i tedeschi e hanno vinto il trofeo.